I tecnici del laboratorio analisi del presidio ospedaliero di Teramo hanno proclamato uno sciopero per giovedì 14 giugno e non escludono di ripeterlo nelle giornate del 19 e 26 giugno. I lavoratori hanno deciso quest'azione di protesta dopo aver preso atto delle posizioni assunte dalla direzione aziendale dell'Asla di Teramo, che non intenderebbe cambiare l'organizzazione del loro lavoro notturno svolto attualmente in assenza della guardia medica attiva. L'unica possibilità che c'è rimasta per rimuovere un atteggiamento del capodipartimento irremovibile su un'organizzazione che sta creando, di fatto ha creato disagi sia i dipendenti dei lavoratori, i tecnici lavoratori che sia l'utenza. Eliminando la guardia medica attiva la notte, quindi soltanto un medico in reperibilità, ci troviamo con un solo tecnico di laboratorio, in locali maestosi, dispersivi, in solitudine per tutte le ore notturne, quindi loro ritengono di essere messi altamente a rischio. Che cosa chiedono i lavoratori? I lavoratori chiedono di ripristinare l'organizzazione così com'era, com'è in tutto Abruzzo. Se noi andiamo ai laboratori di Chieti, ai laboratori di Pescara, ai laboratori dell'Aquila, anche con meno personale, garantiscono una guardia medica notturna e oltre ai lavoratori che operano di notte non operano in solitudine e si dà risposte efficienti e efficaci all'utenza. La Sola di Teramo che cosa risponde? La Sola di Teramo non riusciamo a avere un confronto, anche in quelle occasioni che ci siamo rivolti al prefetto per la fase conciliativa, proprio i debiti dello sciopero, si è presentato solo e esclusivamente il dottor Di Gaetano, non si è presentato né il direttore generale né il direttore amministrativo, tranne una volta solo il direttore sanitario, l'autoressa Mattucci, ma non c'è stata data risposta in quel senso. Negano comunque, si sostiene che questa organizzazione è un modello, il dottor Gaetano, che ha un dice di Trento, che l'ha portata a Teramo dove, secondo lui, i dati riesce a dare risposte, cose assolutamente non vere.